Casa Campagnolo a Sant'Eusebio è solo uno degli esempi dei momenti di paura vissuti dalla gente del borgo martedì scorso. Ora è tutto in ordine ma il racconto resterà nella memoria. Mezzanotte intanto sono uscita per aprire i cancelli alla mezzanotte altrimenti i cancelli venivano proprio tutti intasati dai sassi e poi la mattina l'acqua che veniva giù dappertutto fino a metà della mura da stagno e saltava qua. E tutta quella terra che adesso è in strada? L'abbiamo portata fuori noi in quattro tutta la mia famiglia. Pochi metri più sullo scenario è ancora peggiore con un pezzo di montagna strappato dalla forza delle acque. Mai immaginavo una cosa del genere perché pensavo sempre dalla valle qua a destra pensavo che capitasse questa cosa ma io sono stato sorpreso ma ho visto perché era venuta giù tutta la terra là ma io qua non pensavo nel tratto di 20 metri ecco qua una valle di 20 metri. 8 giugno 4 agosto non è cambiato nulla? No l'8 giugno infatti il nostro quartiere è stato colpito da un ubifragio violento che ha causato danni sia a privati quindi abitazioni che aziende ed esercizi commerciali. Dopo due mesi quindi 4 agosto la situazione non è cambiata anzi a mio avviso è anche peggiorata perché facendo appunto un giro per il quartiere mi sono reso conto che molte più abitazioni hanno avuto seri problemi di allagamento e all'infrastruttura. Anche i pochi sacchetti di sabbia messi per arginare l'acqua non sono serviti a nulla. Il quartiere ha chiesto un incontro ufficiale e urgente al sindaco che si è fatta viva al telefono. Ho scambiato un paio di opinioni sulla situazione del quartiere e ho ribadito che non è più il tempo dei buoni propositi ma serve un piano strutturale per il quartiere perché queste cose non succedono. Che vengano a sistemare perlomeno qua nella valle che fassano delle barriere da fermare i sassi perché ne verranno sempre giù sassi.